Le giocatrici del Napoli femminile, volontari di Lega Ambiente e Dea Bellezza, con il supporto della Lega Navale di Napoli, imbarca a vela per monitorare i rifiuti abbandonati sul tratto di mare di via Caracciolo. Bella l'iniziativa alla bellezza della sostenibilità per il rispetto e la salvaguardia del mare e delle spiagge di Napoli. Maria Teresa Imparato, presidente di Lega Ambiente Campania. Una grande alleanza per mettere al bando rifiuti spiaggiati e rifiuti galleggianti, tutti insieme per combattere contro comportamenti scorrenti a favore dell'ambiente. Buste di plastica, stoviglie monouso, cassette di polistirolo, gli immancabili assorbenti, ecco il risultato del monitoraggio dei rifiuti abbandonati in mare nel tratto del lungomare della città. Primo appuntamento dell'iniziativa di Lega Ambiente in collaborazione con Dea Bellezza e il Napoli femminile, legate al rispetto e alla salvaguardia del mare e delle spiagge della città. Un equipaggio d'eccezione a bordo delle barche a vela della Lega Navale, con i volontari di Lega Ambiente e una rappresentanza della prima squadra del settore giovanile del Napoli femminile, per una sfida della sostenibilità e della conversione ecologica. Ascoltiamo Romolo Maiello, consigliere della Lega Navale di Napoli. Sono molto felice di ospitare oggi questa manifestazione e di rappresentare la Lega Navale di Napoli, che è sempre stata in prima linea per poter diffondere la cultura e l'amore, e quindi sensibilizzare tutta la cittadinanza, i giovani in particolare, all'amore per l'ambiente e alla salvaguardia dello stesso.